Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Demopolis, ottobre 2024, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Il peso dei partiti nel barometro politico dell'Istituto Demopolis. Se si votasse oggi per le elezioni politiche, Fratelli d'Italia avrebbe il 29%, il PD il 23,5%, il Movimento 5 Stelle 11,8%, Forza Italia noi moderati 9,4%, la Lega 8,5%, AVS 6,6%, Azione 2,5%, Italia Viva 2%, più Europa 1,5%, l'affluenza sarebbe del 61%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.